Oddio... Anzi... Che è successo? Praticamente ci hanno incastrato, dobbiamo fare un altro video spot di presentazione per un nuovo canale della Rai. Un altro canale Rai? Sono arrivati al 6, che è? Rai 7, 8, che è? No, è un canale per internet. Ah, è un canale web. E io che ne so come funziona, scusa, che ne... Allora, ascoltami bene, ne abbiamo parlato con Luigi, te lo presento in breve, ok? Allora, senti qua. Su Rai.Rai.it ci sono un sacco di video e contenuti speciali di tutti i tipi che puoi vedere... Tipo YouTube! Sì, vabbè, tipo. E' uguale, YouTube, sì. Fammi parlare. Vabbè, scusa, vai, continua. Allora... Praticamente puoi seguire non solo le tue serie preferite andate in tv, ma anche tanti contenuti inediti creati apposta per... È Netflix. Oh, dai, è Netflix, sì. Tipo... Senti qua. È che mi sembrava proprio... Non mi bloccare, aspetta. No, scusa, no, mi sembrava Netflix. Vabbè, magari mi sbaglio. Allora, praticamente, puoi anche condividere. Praticamente puoi far vedere a tutta una lista d'amici che hai... Ah, condividi video come Facebook. È Facebook uguale a Facebook. Dai, sì. No, sì. Non è come Facebook, non c'entra niente. Però, perché me devi sempre interrompare. Aspetta un attimo, cioè, ti finisco di spiegare... Ti... Ti finisco di illustrare il concetto, poi te parli, perché se continuiamo poi famo notte... Io ci ho da fare. Vabbè. Vai, 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 vai. Allora, praticamente... Ti ho detto che è una piattaforma con una serie di video che soddisferano tutte le tue curiosità. Video brevi, video lunghi. Cioè, veramente tutto quello che puoi chiedere. Generi diversi, categorie diverse. Sì, esatto, esattamente Siamo riusciti, abbiamo trovato una quadra